Ciao, sono Renato Accarino, il titolare della farmacia Accarino di Cava dei Tirreni. Perché cercavamo un partner che curasse la nostra comunicazione sia online che offline. Avevamo bisogno di un'agenzia capace di tradurre le nostre esigenze in chiave moderna e dinamica per rimanere al passo con i tempi. E abbiamo trovato un team disponibile, attento e competente. Adelisity segue per noi tutta la parte del social media marketing e di marketing offline. E ha curato la creazione di diverse campagne, come la recente Non ce ne è glutine, per il nostro reparto celiachia. E stiamo già lavorando alla prossima. Senza dubbio. Il primo aggettivo mi sono vicini e in questi tempi non è scontato. Il secondo disponibili in tempo reale, come se stessero con noi in farmacia. Un saluto e grazie a tutto lo staff di Adelisity per il lavoro che tutti i giorni fanno per noi. No? Ciao! Un abbraccio! Un saluto! Un saluto! Un saluto a tutto lo staff! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Un saluto! Grazie per la visione!